Ben trovati e ben trovate da Andrea Cartotto. Ringrazio per la possibilità accordatemi, per l'invito, rivoltomi a tenere questo intervento in cui parliamo di un tema come docente e come esperto a me molto caro, quale quello della media education. La media, e lo pronuncio volutamente così come plurale di medium, dunque i mezzi finalizzati all'educazione sono importanti ed è dunque importante che la consapevolezza digitale possa risultare certificata. Alla stessa maniera desidero mostrarvi questa immagine a me molto cara, è una immagine non mia reperibile in rete, a cura del professor, lo vediamo in fondo a destra, Michael Sankey della Griffith University della California. Ecco questa immagine l'ho utilizzata in occasione di una prolusione che ho avuto il piacere di tenere in occasione della scorsa giornata internazionale dell'educazione UNESCO quando mi è stato ecco fatto il grande onore di essere nominato tra i Learning Heroes per l'Italia. Ed allora parlando di giornata internazionale dell'educazione e di didattica digitale, possiamo ben osservare come il professor Sankey ha cercato di ricordarci che la tecnologia non può mai da sola trainare tutto ciò che è pedagogia ed educazione, semmai il modello pedagogico educativo fa da traino agli strumenti tecnologici. Ed ecco allora che diversi sono i temi diversi gli assi portanti di una vera media education. Partiamo dalla netiquette. Ecco, con il patrocinio di Fondazione Franchi, senza dubbio tra i primi, Scuola Digitale Liguria, che è poi Regione Liguria, con il suo progetto dedicato alle scuole di ogni ordine grado, ma soprattutto in collaborazione me lo consentirete, ed essendo il papà di questa netiquette ne sono onorato, della FICLU, la Federazione Italiana dei Centri e Club per l'UNESCO, ecco ho dato forma negli anni a quello che è divenuto un progetto nazionale di educazione civica digitale Il Galateo di Mister Internet. Possiamo osservare che sarà possibile per ciascuno, per ogni ordine e grado e fascia di età, scaricare la opportuna copia della netiquette Il Galateo di Mister Internet dall'indirizzo bit.ly slash edunque sbarra galateointernet. Un decalogo non esaustivo, ma un buon punto da cui partire per parlare a casa ed in classe, di come le regole esistano e come in rete e in una qualsiasi applicazione di utilizzo quotidiano. Nel lockdown si è affiancato al progetto nazionale anche il Galateo della DAD e della BBI, proprio per dire, dirci che no, non sono gli strumenti colpevoli, non vi è fallimento se vi è la consapevolezza digitale, vi è il fallimento se vi è appunto l'improvvisazione o d'un uso non adeguato delle risorse digitali. Il punto uno banalmente del Galateo di Mister Internet, condiviso, mi sento di dire, da tutte le versioni che ho scritto, è proprio il non scrivere in maiuscolo, in linea generale, tutto in maiuscolo, perché equivale ad un urlo. Ecco, partiamo proprio da una regola minima per poi riflettere ancora. Inoltre, e beh, in Internet vigono i diritti fondamentali di ogni persona. Lo vediamo in questo articolo 1. Articolo 1 di cosa in realtà? Della dichiarazione dei diritti in Internet, che è un testo vigente, cogente, che la Camera dei Deputati con apposita commissione ha redatto nel 2015. Ebbene sì, in Italia abbiamo una dichiarazione dei diritti in Internet. Per quanto concerne la scuola, è poi intervenuta la legge 92 2019, che ha sancito la messa a regime del curriculum di educazione civica, con le relative linee guida, formalizzato dunque per il primo e il secondo ciclo, con tre colonne, che sono la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, appunto. Da docente, da esperto, ci sono stati diversi casi che ho avuto il piacere di tenere con i miei ragazzi di palestra di cittadinanza digitale. Ecco, un laboratorio che abbiamo svolto proprio nello scorso anno scolastico è stato quello declinato in un progetto PON di 60 ore con la secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, con docenti me e la professoressa, la collega Manuela Di Francesco. Il progetto era titolato Smontiamo il Ciberbullo, come dovremmo pronunciare, perché la scienza è la cibernetica, o cyberbullo, che ha dato forma ad un digitalario, un dizionario ragionato dei termini della tecnologia che è prossimo alla pubblicazione. Ecco, questo per dirvi come in realtà a scuola abbia veramente senso una media education realizzata con cognizione di causa e preparazione. Fondazione Franchi statutariamente ha a cuore la certificazione delle competenze digitali di tutti gli attori del sistema a scuola con un focus particolare sui ragazzi. Ed ecco dunque che questo è l'anno scolastico in cui avviene il lancio gratuito per tutte le istituzioni scolastiche d'Italia, che ne faranno richiesta Fondazione Franchi e chi vi parla è membro del comitato tecnico scientifico della fondazione, quindi fondazione promotore con gli USR aderenti e di partners regionali che sposano insomma e possono assolutamente essere protagonisti del progetto. Ecco, la certificazione civis etica consente di poter valutare in qualche misura proprio le competenze digitali dei ragazzi e poi concretamente i ragazzi riceveranno il modello proforma che state osservando. Quando certificarle queste competenze di cittadinanza digitale? Il comitato tecnico scientifico della fondazione ha individuato due momenti temporali distinti. Classe quinta della scuola primaria, primo livello civis etica e secondo anno della secondaria di secondo grado per il secondo livello di civis etica. Vedete, sono tornato un attimino sul modello di certificazione che ci sono proprio dei descrittori di valutazione abbinati a macro argomenti. Ed allora andiamo ancora un pochettino a scorrere. Ci si potrà iscrivere all'esame, dicevo prima, abbiamo visto le macro aree per conseguire la certificazione civis etica. La scuola per l'appunto potrà, mediante apposito apposita area del portale di fondazione Franchi, prenotare per le classi interessate una sessione d'esame. La scuola avrà, mediante due mail automatiche ricevute, un codice sessione ed un codice di controllo affinché ci sia una garanzia del corretto ed univoco accesso da parte degli alunni, rendendo la famiglia in tal senso consapevole. Sarà il genitore infatti ad inserire i dati anagrafici dello studente validando e certificando l'intera filiera della procedura, tanto che il giorno dell'esame l'alunno, alla presenza di un docente somministratore, utilizzerà un dispositivo mobile connesso alla rete e per poter svolgere il suo esame e ricevere poi la certificazione civis etica dovrà inserire il codice univoco personale. Ed il giorno dell'esame sarà il docente ad avviare l'iter, quindi il processo online di certificazione dopo essersi autenticato sì ma aver verificato che tutti gli alunni siano presenti. La certificazione che lo ricordo non ha costo alcuno né per la scuola né per la famiglia viene inviata in formato digitale presso la casella di posta elettronica del genitore. Dunque, per chiudere questo mio intervento, ringraziare gli organizzatori e promotori dell'Internet Festival di Pisa, uno dei più importanti eventi che abbiamo a livello nazionale, nonché gli altri relatori che interverranno in questo turno, in queste tappe anche successive all'evento. Ebbene, ringraziandovi per la vostra attenzione e mostrandovi qui in grafica come sarà possibile sin d'ora richiedere informazioni alla Fondazione Franchi, chiudo con una massima di Carla Gustav Jung, non certamente un informatico ma un filosofo pensatore. Ed allora diciamoci che occorre sì certamente conoscere tutte le teorie, dominaressi tutte le tecniche, ma grazie anche alla consapevolezza acquisita e certificata in questo caso con una formazione mirata sul tema del digitale, ecco potremo empatizzare ancora di più con il nostro prossimo e dunque per conoscere al meglio un'altra anima umana io debbo per primo avere questa anima umana insita dentro di me. Da Andrea Cartotto ancora un caro saluto e alla prossima. Un saluto a tutti, buon proseguimento dei lavori. Grazie.